Ben ritrovati ai telespettatori di Medical Excellent TV, ben ritrovati a una nuova puntata della Maglia della Salute che oggi parlerà di salute e disagio sessuale. Stare a casa per il Covid ha aiutato le coppie? E ne parliamo con gli ospiti di oggi che sono il professor Rosario Leonardi, urologo, grazie professore di essere con noi. Grazie a lei per il cortese invito e un saluto a tutti i telespettatori. Ritroviamo anche il dottore Mariano Indelicato, psicologo e psicoterapeuta, grazie anche a lei di essere ritornato alla Maglia della Salute. Grazie a lei dottoressa per l'ulteriore invito e un saluto a tutti i telespettatori. Allora dicevamo il periodo del Covid sicuramente è un periodo particolare sia dal punto di vista emotivo ma anche da un punto di vista fisico. Stare insieme a maggiore contatto per più ore lavorare da casa in qualche maniera aiuta le coppie a ritrovarsi o in qualche maniera le allontana. Ne parliamo appunto innanzitutto da un punto di vista psicologico subito con l'intervento del dottore Indelicato. Quanto questa situazione dottore ha inciso sulle emozioni anche sulla vita della famiglia e della coppia in particolare? Sicuramente incide perché il Covid ci ha costretto tutte le misure restrittive legate al Covid e il fatto di dover stare a casa ci portano a confrontarci in particolar modo con due concetti che è la gestione del tempo e dello spazio. Noi magari ogni tanto non ci facciamo caso ma quello che noi facciamo durante una giornata è proprio gestione del tempo e dello spazio. Il ritrovarci insieme per tanto tempo chiaramente può comportare e nello stesso spazio può comportare problemi alla coppia. Noi siamo abituati ad andare a lavorare, ad avere i nostri ritmi di vita quotidiana, all'improvviso ci ritroviamo invece a gestirci all'interno dello stesso spazio 24 ore al giorno. Chiaramente se la coppia non ha delle risorse molto forti all'interno di se stessa, questo può sfociare in molti conflitti. Non è un caso che laddove c'era una conflittualità sono aumentati ad esempio i casi di violenza in famiglia, i casi di violenza sessuale, proprio perché dove la coppia è povera di risorsa i problemi esplodono. Dove la coppia invece a tutti i mezzi comunicativi nello stare insieme, del confronto, del sapersi adattare alle nuove situazioni che il Covid ci sta proponendo, chiaramente le problematiche diminuiscono. Ecco invece con il professore Leonardi affrontiamo la questione da un punto di vista fisico, sessuale, come urologo. Ho letto di numerosi articoli, ma ho anche ricevuto, devo dire, numerosi messaggi in privato quando abbiamo promosso la trasmissione, di persone che in qualche maniera non riescono più ad avere un approccio sessuale con la moglie e viceversa perché proprio non hanno più lo stimolo. Sì, questa è una verità, in effetti dovremmo un attimino fare un po' di storia di quella che è la natura della sessualità. Ecco, intanto vorrei proiettarvi una diapositiva che definisce quella che è la salute sessuale. Possiamo mandarle in onda? Ecco, la prossima, questa è chi vorrebbe, chi può anche contattarmi. Il benessere sessuale, in pratica l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa in maniera molto netta su quella che è la salute sessuale. La salute sessuale è il perno della salute dell'uomo perché è un mix di Soma e di Psiche, cioè l'equilibrio fra il Soma e la Psiche poi va ad estrinsecarsi in quella che viene definita salute sessuale. Perché? Perché in effetti alla base di tutto c'è da una parte la possibilità e la capacità di interagire con l'altra persona, con il partner, con la partner e dall'altro lato ci deve essere un benessere fisico che consente a questo colloquio poi di concretizzarsi in quella che è la genitalità. Quindi, come vedete, c'è un mix fra Soma e Psiche che poi deve essere tale da dare i risultati che tutti vogliono. Andiamo avanti con la prossima diapositiva perché questa, diciamo, diapositiva ci dice che in effetti la sessualità è influenzata da diversi fattori. I fattori biologici, adesso torneremo su questo, fattori psicologici, lo diceva già il collega psicologo che in effetti lo spazio dove noi agiamo è importante perché non dobbiamo dimenticare che l'evoluzione della sessualità è avvenuta nei millenni perché noi siamo parte psichica ma anche sommace, noi abbiamo un'origine dei primati, quindi dei mammiferi che chiaramente devono assolutamente gestire il proprio spazio. Ecco perché ad esempio non c'è stato un aumento di gravidanze come noi ci aspettavamo perché in effetti il problema spazio è un problema importante. Tutti gli animali, e noi purtroppo lo usiamo pure perché non dobbiamo dimenticarlo al di là di quella che è poi l'elaborazione dei fatti, con la parte diciamo più giovane, più nuova del nostro encefalo, ma il cosiddetto archencefalo, risponde ancora a delle regole molto precise, cioè lo spazio deve essere sufficiente per la famiglia e quindi per la prole. Il fatto di dover vivere in ambienti angusti è chiaro che non stimola alla rivoluzione e questo indirettamente abbassa anche quello che si diceva desiderio sessuale, cioè nel senso che lo stimolo che poi alla base, diciamo nell'archencefalo, l'input è quello di riprodurre la specie, sicuramente si riduce. Eventi storici, sicuramente il Covid è un evento storico, siamo bombardati giornalmente da messaggi negativi che incidono sulla psiche dell'uomo, cioè negativizzano quello che in effetti invece dovrebbe essere un aspetto positivo della vita, perché la sessualità è un aspetto positivo, non negativo. È chiaro che tutti questi input, questi messaggi che giungono ogni giorno abbassano quella che è la voglia di fare e la voglia di interagire. Il distanziamento sociale, le preoccupazioni che avvengono e che vengono continuamente date, dette ogni giorno, non aiutano a quello che è il primo elemento della sessualità, che è il dialogo, che è un dialogo verbale ma anche fatto di gesti, di abbracci. Andiamo avanti, la prossima diapositiva ci dice che in effetti oggi più che di una deficit dell'erezione, che è un aspetto di questo problema, ci troviamo di fronte a una disfunzione sessuale, a un disagio sessuale, c'è a un venir meno di quell'equilibrio fra genitalità e psiche. In pratica l'uomo non affronta e la donna non affrontano con serenità il rapporto, addirittura il rapporto con tutti questi messaggi negativi che giungono non si vede più come un qualcosa di sicuro e di piacevole, ma come un qualche cosa che probabilmente può anche alterare quella che è la salute fisica del soggetto. A questo si aggiunge anche uno stile di vita alterato, perché tutte le situazioni che portano a disfunzione elettile vengono esasperate in questo momento di lockdown, cioè si esagera per esempio negli alimenti, si esagera nell'utilizzo di alcol, si esagera nell'utilizzo del fumo, quindi tutti quei fattori di rischio per una disfunzione elettile vengono esasperati e questo porta in effetti a quello che noi andrologi stiamo verificando, c'è un aumento dei problemi di disfunzione elettile nel maschio e una riduzione della libido nella donna. Avanti con la prossima. Ecco, prima di parlare della diagnosi io desideravo anche un confronto e un parere dal collega psicologo proprio su questi aspetti che abbiamo trattato e poi andremo avanti anche dicendo quelle che possono essere le diagnosi, come vengono fatte, quali sono oggi i mezzi che abbiamo per giungere la diagnosi fra problema di psiche e problema di somma. Dottore Indelicato. Professore, con piacere, l'ascoltavo anche molto piacevolmente perché è chiaro ed evidente che in questa coniugazione e in questa congiunzione che ci deve essere, necessariamente ci deve essere tra psiche e somma, un ruolo grande lo gioca l'ansia, lo gioca la paura, l'ansia. Noi sappiamo che lei sicuramente me lo insegna, professore, che il funzionamento dell'ansia, come del sistema nervoso, cioè quelli che noi in termini tecnici chiamiamo il parasimpatico e il simpatico, come dire, il parasimpatico che dovrebbe essere il freno inibitore rispetto ad alcuni fenomeni, fenomeni d'ansia invece ha un ruolo rilevante per quanto riguarda l'erezione e l'eccitazione sessuale. L'ansia di fatto non fa altro che attivare invece un sistema nervoso totalmente diverso che è quello del simpatico e spesso interagisce chiaramente portando a una serie di disfunzioni. In ansia, in ansia sì perché noi siamo partiti nel periodo del Covid con l'andrà tutto bene, ci sembrava una cosa molto passeggera che in un mese saremmo usciti da questa fase pandemica, ci saremmo liberati di questo virus, c'erano tutte le previsioni che si facevano ed invece, come dire, siamo in una fase in cui siamo alla terza ondata e non sappiamo e nessuno ci dice quando ci tireremo fuori da questo tipo di problematica. Adesso, come dire, si accende... Scusate se interrompo il dottore indedicato montaneamente perché vorrei cercare di fare subito una domanda, quindi possiamo dire già a chi ci segue che non è un problema del singolo, ecco se chi ci segue a casa in questo momento si riconosce nelle problematiche che ha elencato il professore Leonardi e che ha elencato il dottore indedicato possiamo dire che rientra in una fotografia della situazione sociale attuale. Ma io penso che sia una sindrome di gregge, tornando a quelle che oggi sono i termini molto utilizzati, si parla di immunità di gregge, io penso che sia proprio un problema sociale che però non deve essere vissuto in maniera passiva, cioè un messaggio che secondo me va assolutamente dato ai nostri telespettatori che bisogna capire il problema e trovare i mezzi per risolverlo, non possiamo passivamente rinunciare alla nostra sessualità e i mezzi ci sono perché? Perché in effetti noi abbiamo la possibilità di capire dov'è l'inghippo all'interno di un rapporto di coppia, cioè se in effetti sta prevalendo la psiche o un problema di somma e da quello rivolgersi o allo psicologo qualora ci fosse appunto un problema di natura prettamente psichica o all'urologo, all'andrologo, se c'è un problema di natura vascolare. Ripeto, le due cose si associano in effetti alla trasmissione di oggi, la dice lunga, sul fatto che le due figure invitate sono un somatista, chiamiamolo così, ecco passatemi il termine, che è l'andrologo e un psicologo che chiaramente si occupa della problematica della psiche. Noi diciamo che ci occupiamo di andrologia e io dico anche una sub specialità in sessuologia, in effetti quando ho un paziente di fronte lo devo come dire esaminare a tutto tondo, nel senso che devo un attimino sapere, capire se ci troviamo di fronte a una o un'altra situazione. Se noi mandiamo la diapositiva che avevo prima accennato e avevo intravisto, cioè quella della diagnosi, ecco come si fa a fare una diagnosi? Il colloquio col paziente è fondamentale perché da lì puoi capire se per esempio all'interno della coppia c'è un momento di tensione. Allora noi in sessuologia diciamo che il rapporto sessuale è un rituale se vogliamo, ma è un rituale condiviso, è un rituale cercato, non è un qualcosa che si deve fare, ma è un qualcosa che si vuole fare, deve essere contestualizzato, non ci scordiamo il problema importante nelle giovani coppie della presenza dei figli a casa, ecco questa è un'altra cosa fondamentale, bisogna chiedere o delle persone anziane a casa, perché è chiaro che se deve essere un rapporto contestualizzato il contesto è fondamentale e allora cosa bisogna fare? Beh forse bisogna come dire ritornare ad essere un po' ragazzini, cioè potrebbe questo momento di difficoltà essere sfruttato in positivo perché si può riacquisire quella voglia di fare che deve chiaramente trovarsi i contesti giusti e questo può essere anche stimolante, quello che io spesso dico ai miei pazienti è trovatevi i vostri spazi, ma spazi non soltanto fisici ma spazi anche mentali. Se il contesto è buono, se la coppia è una coppia che si vuole, che si cerca e che quindi vuole assolutamente mantenere la sua sessualità e il problema è erettivo, allora a quel punto bisogna fare degli esami. Esami di laboratorio perché dicevo che il momento è critico perché l'alimentazione non è quella corretta, quindi il colesterolo, l'omocisteina, i trigliceridi, questi possono assolutamente aumentare, la glicemia può sballare completamente e questi sono fattori di rischio per una disfunzione erettile su base organica. Non ci scordiamo poi anche il fumo, il fumo di sigaretta che è un forte vasocostrittore e quindi se associamo questi fattori di rischio a un'attività ridotta è chiaro che poi i vasi non ringraziano. L'esame degli ormoni si è importante perché se c'è un calo di desiderio potrebbe anche essere legato come diceva giustamente il collega psicologo a questo stato di ansia, lo stato di ansia va a innestare un asse neuroendocrino che praticamente va ad alterare gli ormoni perché il nostro organismo è un organismo che ci difende, cioè nel momento in cui quella cosa non si può fare allora si mette in moto un qualche cosa che chiaramente non è voluta ma è di difesa che porta a una riduzione della testosterone, quindi è una sorta di calo di testosterone legato al momento di ansia e di contesto non favorevole o addirittura ci può essere un aumento della prolattina, quindi indagini ormonali, indagini sul metabolismo sono fondamentali. Nel momento in cui c'è un problema chiaramente metabolico o per esempio ipertensivo bisogna fare gli esami strumentali. Oggi l'esame diciamo di elezione è un ecocolordopper del pene dinamico che ci può mettere in evidenza se il sistema scolare che è il motore dell'organo maschile funziona bene oppure se ci sono delle alterazioni che debbano essere assolutamente riparate e questo poi parleremo dopo quando si tratterà della terapia. Se c'è qualche domanda in merito se no passiamo alla diapositiva successiva. Torniamo nuovamente in questo momento in studio potremmo dire anche se in realtà non ci siamo perché volevo approfittare per ovviamente far interagire anche il dottore indicato su quello che ha detto il professore leonardi. Sì io infatti stavo intervenendo perché c'era una coniugazione che ha fatto il professore leonardi che mi pare interessantissima ed è il il motivo dei vissuti sessuali cioè come noi viviamo la sessualità che cos'è la sessualità giustamente il professore leonardi ci riferiva del contesto ma ci riferì ma il riferimento più importante che per la modalità con cui è costituito il nostro apparato sessuale e per come è collegato sul piano che poi ha un collegamento come dire nervoso anche abbastanza semplice come quindi come per come è fatta l'anatomia della l'anatomia nervosa del nostro sistema sessuale non vi è dubbio che è un gioco per il piacere se la sessualità se la sessualità non viene concepita come un gioco per il piacere alla fine ci mettiamo dentro nella sessualità soffre e ha sofferto nel corso del tempo di tutta una serie di infrastrutture che poi come dire comportano una serie una serie di problematiche una serie problematiche ci sono infrastrutture di carattere culturale sulla sulla sessualità no oggi noi ad esempio assistiamo nel rapporto uomo donna a un cambiamento epocale ma un cambiamento epocale che ancora come dire viene mal digerito perché ancora il passaggio generativo rispetto ad aspetti ad alcuni aspetti mitici non è stato totalmente assorbito noi dagli anni ottanta assistiamo come dire negli anni ottanta dal secolo scorso assistiamo una vera e propria rivoluzione da questo punto di vista con il ruolo con il ruolo della donna come dire come parte attiva del processo della della sessualità eppure ancora oggi pazienti come dire quando ci sono problemi di coppia e arrivano all'interno della terapia di coppia se la donna ha tradito viene vissuta ed è vissuta oggi ancora oggi come puttana se è l'uomo che ha tradito viene considerato esperto ecco su queste sono tutte infrastrutture culturali che rientrano nell'ambito come dire del del vissuto del vissuto sessuale quando conta l'aspetto mitico cioè tutto ciò che ci viene prasmesso dalle generazioni precedenti rispetto ai vissuti di carattere sessuale il punto e l'indirizzo di lavoro invece deve essere quello di ritornare come dire ai concetti fondamentali legati alla sessualità che la sessualità è un gioco per il piacere anche il professore leonardi saprà che quando influisce come dire ad esempio nei problemi erettivi la grande pressione che viene fatta sul mio essere maschio cioè io devo dimostrare in tutte le occasioni in tutte le situazioni devo dimostrare di essere maschio ricordo mi prendo un minuto per dire questo riporto un ragazzo di circa vent'anni che viene viene in terapia dicendomi che ha un problema un problema di carattere elettivo che ha avuto un problema di carattere elettivo e addirittura questo problema di carattere elettivo che lui aveva vissuto in una singola situazione lo portava ad interrogarsi sulla propria scelta sessuale cioè se fosse etrosessuale se fosse omosessuale e così via il problema è che invece aveva fallito una prestazione sessuale con una ragazza analizzando quel tipo di situazione arrivando a un certo punto mi dice chiaramente accorcio i tempi arrivando a un certo punto mi dice dottore ma io quella sera con quella non ci volevo stare sono stato costretto a starci ecco le pressioni che si subiscono da questo punto di le pressioni che si subiscono come dire che vengono dal contesto culturale possono portare problematiche di carattere di carattere sessuale però io voglio dire una cosa che è fondamentale rispetto come dire anche a quello che diceva il professor Leonardo rispetto alla diagnosi e quindi alle conseguenze terapie le problematiche di carattere sessuale cioè i problemi di carattere sessuale nella sfera della sessualità sono un disturbo psicosomatico chiamiamolo come dire con il giusto nome allora a me lo dico da psicologo e lo dico anche ai spettatori e lo dico anche per tanti miei colleghi a me hanno insegnato che la psicosomatica ha una definizione che è valida come dire la parte psichica rispetto alla parte somatica dopo che tutta la parte somatica è stata attentamente valutata tant'è che i pazienti che arrivano da me sono le onardi che mi presentano un problema di carattere sessuale prima li mando dall'andrologo per come dire per andare a controllare la loro funzionalità dal punto di vista estremamente anatomico biologico fisiologico e così via dopodiché se non si riscontra nessun tipo di problema da questo punto di vista chiaramente parliamo degli aspetti di carattere psicologico no no sono perfettamente d'accordo abbiamo una visione sicuramente in linea su quelle che sono gli approcci al problema della sessualità è chiaro che l'aspetto organico è quello che deve essere valutato per evitare poi anche problematiche più importanti perché ricordiamoci che le alterazioni dei vasi penieni che sono dei vasi molto piccoli addirittura riescono a precedere di anni alterazioni a vasi vitali quali le coronarie quindi lo studio organico è fondamentale nel primo approccio ecco al paziente che ha una che riferisce una disfunzione rettile e sono perfettamente d'accordo sul discorso culturale ecco noi ci troviamo di fronte a una svolta in quello che è il gioco delle parti perché fino a qualche tempo fa noi parliamo degli anni 80 ecco i nostri anni ruggenti chiamiamoli così ecco il ruolo delle parti era molto chiaro il maschio era quello che doveva dimostrare la donna si accontentava perché di fatto non aveva questa grossa esperienza che il maschio vantava di avere poi magari non era così però di fatto il gioco delle parti era questo oggi è cambiato perché la donna ha esperienza tanto quando non ne fa un mistero e purtroppo cosa succede che mentre la donna non deve dimostrare nulla e può fra virgolette bleffare in un momento di intimità il maschio invece deve dimostrare la sua potenza ecco perché anche i ragazzi oggi cominciano a soffrire di queste problematiche una cosa stranissima che anche le persone con già una loro esperienza e quindi con gli anni passati nuove situazioni di nuovi rapporti hanno anche loro la cosiddetta ansia da prestazione e quindi l'ansia da prestazione no no giustamente ne scusi se la interrompo le parlo solo perché ho il ritorno e chiudiamo velocemente perché abbiamo davvero pochi minuti con le diapositive così chiudiamo il cerchio del dell'argomento e poi facciamo una battuta finale anche con il dottore dedicato bene allora io direi di mostrare subito quelle che sono le terapie perché una volta che si è fatta la diagnosi cosa fare come terapie parliamo di terapie mediche quindi compresse si compresse che possono essere anche indirizzate a modificare quelle alterazioni metaboliche ma oggi per esempio una cosa molto interessante e nuova sono le onde d'urto a bassa intensità la farmaco infusione intra cavernosa cioè l'iniezione intra cavernosa del farmaco vaso attivo la prostaglandina il vacuum e la terapia chirurgica chiaramente nei casi più importanti che non risentono la terapia medica andiamo avanti con la prossima diapositiva ecco volevo mostrare queste onde d'urto che sono veramente una grossa novità perché le onde d'urto sono state impiegate da tempo nella terapia della calcolosi nella terapia delle infiammazioni a livello articolare ma la novità è questa che indirizzando le onde d'urto all'interno del tessuto cavernoso si ha una dilatazione di questi vasi e sia anche la liberazione di ossido nitrico avanti con la prossima diapositiva cosa succede che il vaso rigido perché perché è stato bombardato dal colesterolo perché non è stato diciamo utilizzato a causa di tutti i problemi che abbiamo detto diciamo che non ha fatto ginnastica in maniera corretta con l'impiego delle onde d'urto a bassa intensità crea una si crea una dilatazione quindi le scorie vengono eliminate il vaso è più elastico quindi più pronto nel momento del dell'atto sessuale avanti con la prossima diapositiva sia in pratica una gemmazione di piccoli vasi che migliorano la compliance del sistema cavernoso e questi piccoli vasi portano più sangue quindi l'orgone più pronto nel momento del bisogno la prossima diapositiva ecco io vi mostro per esempio un'indagine all'ecocolor doppler dinamico patologico prima dell'utilizzo delle onde d'urto con questi vasi di ramificazione che sono veramente scadenti mentre dopo l'impiego della terapia ecco si ha nuovamente una gemmazione di vasi e quindi un ritorno alla normalità ecco volevo mostrare questa novità perché si è sentito molto parlare negli anni di viagra e di tutti i farmaci che appartengono alla stessa categoria ancora non se ne è parlato a sufficienza di queste novità nel campo della terapia fisica della disfunzione elettrica molto interessante siamo in chiusura davvero pochissimi minuti quindi dottore indicato che cosa possiamo consigliare velocemente a chi ci segue che in qualche maniera si trova in difficoltà nei rapporti sessuali con il partner in questo momento e soprattutto legato alla pandemia io le devo dire dottoressa che sono stato più volte intervistato rispetto a questo rispetto a questo tema e rispetto come dire a queste difficoltà che ci sono nella che ci sono legate alla pandemia e a questa vicinanza vicinanza fisica che si sta trasformando più che da vicinanza fisica di conti condividono più lo spazio in una lontananza psichica e mentale della della coppia allora quello che serve per ristimolare soprattutto in un momento in cui il professore poco fa lo faceva notare non ci possiamo toccare non ci possiamo abbracciare ma chiaramente all'interno delle famiglie tutto questo non dovrebbe non dovrebbe avvenire all'interno della coppia chiaramente non c'è non ci dovrebbe essere trasmissabilità perché il covid lo possiamo prendere in un milione di modi ma sicuramente se stiamo a casa ambe due non c'è possibilità di trasmissione allora in quel caso dobbiamo riniziare a ricoccolarci ricoccolarci vuol dire iniziare con i massaggi riiniziare il contatto fisico far vedere che il contatto fisico non è pericoloso ma è una fonte di piacere e anzi la maggiore fonte di piacere che noi che noi che noi abbiamo quindi rimassaggiarci ritoccarci tenerci per mano come dire risentire tutte le sensazioni di carattere fisico sicuramente può aiutare ad andare nella direzione della della ricerca come dire del di nuovo del del piacere dello stare insieme del piacere di vivere intensamente la propria vita la propria vita sessuale noi non ci dobbiamo dimenticare lo dicevamo anche la volta scorsa se si ricorda dottoressa anche se parlavamo di diete e così via che piacere della vita non è che sono poi tantissimi non c'abbiamo piacere piacere sessuale piacere di stare a tavola come dire così via non è che sono tantissime quindi quando ci viene a mancare un piacere quale quale può essere quello di carattere sessuale chiaramente costituisce un grande problema anche dal punto di vista di eventuale patologie di carattere psichico che possono come dire in inserirsi io voglio dire una battuta però su una cosa che diceva poco fa il dottore davanti ed era un concetto che portavamo un po insieme rispetto al rapporto uomo donna io spesso professore utilizzo un termine che è quello che ha il maschio non può avere mal di testa mentre le donne sì il allora al di là delle rivoluzioni perché dico questa cosa perché al di là delle rivoluzioni al di là come dire di della giusta conquista dei diritti dei diritti femminili anche nel campo della anche nel campo della sessualità i ruoli non sono cambiati e quindi come dire il corteggiamento le modalità di corteggiamento le modalità di approccio rimangono sempre quelli quindi non ce li non ce li dobbiamo per un attimo dimenticare non ci dobbiamo come dire far forviare purtroppo da messaggi che massimidia portano all'esterno che poi non solo le massimidia ma anche tutto ciò che riguarda il mondo che sta attorno alla sessualità quindi come dire la pornografia tutto quello che che oggi è semplice andasse a vedere un filmino come dire all'interno del all'interno del basta cercare su google cioè come dire la valle da questo da questo punto di vista quella non è ricordiamoci tutti non è il modello di rapporto maschio femmina non è il modello del rapporto del rapporto del rapporto mensuale come dire noi dobbiamo continuamente ritornare ai nostri ai modelli che noi abbiamo e i modelli come dire comportano come dire io lo dico con una semplice con una semplice parola che secondo me è anche fortemente interessante ma anche dal punto di vista strettamente evolutivo antropologico che è quello del ricco di nuovo riaccarezzarci ricoccolarci le coccole per noi sono una cosa fondamentale e importante iniziamo con le coccole della mamma subito dopo che siamo nati della dei genitori subito dopo che siamo nati ma questa ce la portiamo per tutta la vita ognuno di noi vuole essere coccolato professore leonardi anche lei una battuta finale sì io penso che dobbiamo sempre pensare e vivere le esperienze in positivo allora sicuramente lo stile di vita va sistemato lockdown sì o no poco importa riacquistiamo un modo di nutrirci anche nei piaceri della tavola assolutamente sono dei piaceri che non vanno messi da parte però tutto con un po di moderazione se ci sono problematiche di disfunzione erettile assolutamente fare esami di laboratorio proprio per escludere quelle problematiche vascolari che possono precedere poi problematiche cardiologiche o cerebrali importanti il all'interno della coppia bisogna assolutamente mantenere i ruoli che non significa maschilista o femminista significa che in natura esistono due mondi diversi che chiaramente si devono incontrare ognuno deve giocare il suo ruolo senza dover l'uno prendere ruolo dell'altro nella maniera più assoluta questo aiuta e poi secondo me sempre quella che è la curiosità cioè non dare mai per scontato che quello che si è fatto fino a quel momento è il massimo che si possa fare io dico che all'interno della coppia ci vuole sempre quel po di peperoncino virtuale chiaro che possa come dire rendere il rapporto sempre vivo contestualizzarlo non fermarci in un rituale che poi diventa un rituale insipido poco stimolante poco accattivante ecco non dimentichiamoci che la scoperta del lui o della lei è un continuo divenire e se noi riusciamo a tenere giovane ecco la coppia sicuramente anche il rapporto sessuale ne avrà un grosso vantaggio io devo ringraziare sia lei come il collega e spero che ci possa essere qualche altro momento per discutere di queste problematiche che secondo me sono veramente le problematiche di oggi e lo saranno sempre di più nel futuro sicuramente professore troveremo altri spazi per poter aiutare chi ci ascolta ad avere risposte o perlomeno sapere come orientarsi davanti a dubbi o problematiche io vi ringrazio vi ringrazio moltissimo ringrazio il dottor mariano indiricato grazie dottore grazie a lei grazie alla tv che ci ospita grazie a professore leonardi è stata veramente una trasmissione piacevole in cui credo che siano state date indicazioni indicazioni importanti io voglio chiudere con un aspetto di fronte a una problematica sessuale rivolgiamoci subito agli specialisti non tergiversiamo grazie ancora e professore leonardi grazie bene grazie a voi tutti e alla prossima e allora io cosa posso dirvi stasera nei prossimi giorni dopo aver ascoltato la nostra trasmissione coccoliamoci sicuramente ci farà bene all'anima e anche al corpo alla prossima con la Maria della Salute